Gianmarco, Salvatore, Yolanda, Mirko, Giacomo, Mattia, Sono, Excalibur, Sogikin, Filler B, Deadpool, Nico Robini, Iccia, Crossone Erbisto, a chi tocca non sei gru, per dire, hanno fatto tutto, quando sono pronti, ci siete? Via, fate partire! Oh mio Dio, oh mio Dio, è successo di essere terribile, le mie dette sono scomparte, ma no, le mangio, ci sono cose ancora più terribili, tutti i miei amici sono morti, tutti, è stato Bieber, che li ha uccisi tutti, li ha uccisi tutti senza pietà, oh, Justin Bieber. Se solo un miracolo, se solo un miracolo potessi accadere, è qui, proprio qui all'Ecnocomics, degli eroi fortissimi potessero arrivare. Mai sì, a tutti o meno, il Ciro 3. Mai sì, a tutti o meno, il Ciro 3. Io, 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 io sono Killer B, non ti preoccupare, il mondo posso salvare, amico di ICB, sì, sì, sì. Applausi So che chi? So che chi? So che chi? Ma perché da tutti quelli che poterono tornare sei tornato proprio tu? Sei peggio di Tisaduna e di quel tizio basso, pelato, brutto di Dragon Ball. Com'è che si chiama? Non neanche me lo ricordo, è talmente brutto. Non ti volevo proprio te, sei brutto. E poi non servia niente. E peggio di te poteva capitarmi solo. Ma no! Lasciatela stare! Fermi, bulleni! Ma cosa dovete fare? Siete senza armi! Gretini! Gretino! 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 Che cosa pensate di fare? Io sono Excalibur. La spada, la spada più forte mai esistita. È inutile combattere. In ogni caso vincerei io. Gretino! 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 È caro! Gretino! Gretino! Un applauto! Non a salvare il mio organolo! È una roba! Ai! Ai! Ma che me ne frega del mondo! Io ti amo! Buon pranzo applauso, grazie!